Due reti siglate, una per tempo, bastano a Lavello per ritrovare i tre punti dopo due pareggi consecutivi. I ragazzi di Mr. Zeman superano agevolmente per 2-0 il Nardò allo russo di Venosa, nonostante le tante assenze in difesa, rafforzando il piazzamento playoff e le proprie ambizioni. Per i Granata di Mr. Danucci, sogni ridimensionati dopo sette risultati utili consecutivi, ma la matematica non li esclude ancora dalla corsa le prime cinque del girone H di Serie D. Match che parte subito forte, il Lavello al sesto è già in vantaggio con il solito Burzio che calcia da lontano, conclusione sporcata e palla in rete, tabellino sbloccato allo russo di Venosa. Lo stesso Bomber argentino ci riprova al decimo, ma questa volta Millie para in sicurezza. Timida la reazione del Nardò con Nicolao che calcia non benissimo, traiettoria abbondantemente a lato. Al quattordicesimo Vito Francesco prova la botta da lontano, Millie è attento. Al diciassettesimo calcio d'angolo per il Nardò e colpo di testa di Valzano che prende il tempo, ma non inquadra lo specchio di porta. Un minuto dopo Vito Francesco serve un'ottima palla per la testa di Liurni, sfera che esce di un nulla sull'esterno della rete. Partita giocata ad alti ritmi al trentasettesimo, occasione per i Lucani congiunta che ci prova col destro, il piede debole sfiorando il palo al quarantaseiesimo in pieno recupero. Si fa vedere per la prima volta Tonros su assist di potenza, colpo di testa su cui Franetovic non si fa sorprendere all'intervallo, il Lavello è avanti 1-0. Ripresa al via, coli il Nardò a caccia del pareggio, ma il Lavello quando trova spazi è incontenibile. Al cinquantanovesimo Lucani vicino al raddoppio con Burzio che divora una grossa chance fallendo, un calcio di rigore in movimento, palla consegnata a Millie. Al sessantunesimo Nardò pericoloso con Rimoli, destro secco che termina a lato di non molto. Al sessantaquattresimo Burzio si invola verso la Porta Salentina, poi sciupa tutto cercando di servire un compagno. Partita che si complica per il Nardò al sessantacinquesimo, Capitane De Giorgi, già ammonito, ottiene il secondo giallo per proteste lasciando i suoi compagni in 10 contro 11. Al settantunesimo anche il vice di Zeman viene allontanato dalla panchina, sempre per eccessive proteste. Partita che resta appesa sull'1-0 ma al settantacinquesimo il Lavello chiude i conti con Longo servito perfettamente da sinistra. Da tutti i Santi, piattone facile facile e rete del 2-0. Festeggiano i Lucani, tre punti sempre più vicini. Il Nardò non riesce a reagire, causa anche l'inferiorità numerica. All'ottantaduesimo rischia di subire anche la terza rete con Marotta che calcia forte ma Millie si supera mettendo in angolo. E l'ultima chance del match, triplice fischio e 2-0 il finale a favore dei Lucani. Nel prossimo match il Lavello sarà di scena ad Andrea per lo scontro diretto contro la Fidelis. Il Nardò ospiterà il Bitonto, altra partita chiave nella corsa playoff.